Ufficializzati ieri dalla Lega Pro i tre gironi della terza serie nazionale, a cui prenderà parte anche la Turris che torna tra i professionisti dopo 19 anni. Nessuna sorpresa a livello geografico, con i corallini insediti nel girone C insieme a tutte le altre rappresentanti nella zona meridionale. A far compagnia agli uomini di Fabiano ci saranno altre cinque compagini campane, la Juve Stabia, appena retrocessa dalla Serie B, l'Avellino, la Casertana, la Cavese e la Paganese. Inoltre ci saranno delle vere e proprie corazzate come Bari e Palermo, sicuramente tra le più serie candidate alla promozione. I biancorossi pugliesi sono reduci dalla sconfitta nell'ultima finale playoff e quindi faranno sicuramente di tutto per centrare il traguardo. I rosa-nero, come la Turris neopromossi dalla Serie D, puntano anch'essi all'immediata risalita. Il girone comprende altre nobili decadute come Catania, Catanzaro e Ternana, l'altra retrocessa dalla B, Trapani e il Foggia appena ripescato. Una vera e propria B2, quella che dovrà affrontare la squadra del presidente Colantonio, che oggi conoscerà finalmente il proprio calendario, stilato nel pomeriggio dalla Lega.